Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di artrite, artrite reumatoide. Soprattutto andremo a approfondire le possibilità di intervenire su questa malattia tramite le sedute di agopuntura. Agopuntura è utile nel trattamento dell'artrite e si integra bene con qualsiasi altra terapia, migliorandone gli effetti senza caricare il paziente di controindicazione alcuna. La gomuntura agisce anche sullo stress causato dal dolore cronico e degli eventi di vita che peggiorano ulteriormente il quadro dell'artrite. Gli effetti della gomuntura sono infatti l'analgesia, la capacità di ridurre il dolore, l'ansiolisi, la capacità antinfiammatoria è decontratturante. Tutti sono utili in caso di artrite. La gomuntura in molti casi non può agire da sola su questa patologia, ma rappresenta un'integrazione terapeutica importante sia per gli effetti terapeutici che comporta, sia perché priva di effetti collaterali degni di nota. L'artrite è un'infiammazione cronica, da trattare oltre che per i pesanti sintomi che comporta direttamente, anche per tutti gli effetti sistemici secondari che ne derivano. L'infiammazione cronica infatti è considerata la madre di molte altre patologie. L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune che aggredisce le articolazioni. Nell'artrite reumatoide il bersaglio dell'autoimmunità è la membrana sinoviale delle articolazioni. Tuttavia l'artrite ha una serie di altri sintomi associati oltre quelli articolari. La diagnosi è strumentale clinica. Occorrono gli esami del sangue, preumatest, i test di autoimmunità, i test infiammatori, la radiologia, l'ecografia articolari, in alcuni casi anche la risonanza magnetica. Il trattamento con agopuntura, come anche qualsiasi altra terapia dell'artrite, si giovano di uno stile di vita e alimentazione antinfiammatoria. Allo stile di vita e all'alimentazione sono dedicati appositi video ai quali accedere tramite la playlist sul mio canale. Ricapitolando, l'agopuntura nell'artrite è utile come antinfiammatorio, analgesico, decontratturante e per ridurre lo stress connesso alla sofferenza e al dolore. Questi effetti contengono il carico farmacologico a cui questo genere di paziente sono spesso sottoposti. L'artrite è una malattia severa che richiede certamente anche l'associazione di terapie maggiormente invasive. Tuttavia sarebbe sbagliato disdegnare l'apporto prezioso che può fornire questa antica medicina. L'agopuntura è caratterizzata infatti dall'assenza di effetti collaterali. Questo consente la ripetizione del trattamento. Aspetto basilare sempre, ma in modo particolare nella gestione del cronico. Le sedute non sono dolorose, sono caratterizzate da una piacevole sedazione. L'agopuntura è una terapia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale di Sanità fin dal 1979. L'UNESCO l'ha definita patrimonio culturale dell'umanità. Bene, siamo alla fine del video di oggi. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, ma soprattutto biffate la campanella. Questo vi consentirà di essere raggiunti riguardo la pubblicazione di nuovi video sul canale. Spero di vedervi presto ancora. Arrivederci!